Questa è la rotta? Qua? Quamare? Quamare? Sì passiamo la mia crua Allora Stefano, verso di me, organizziamo un traino. Mi ho messo a soffa adesso, giusto? Sì. Perché Federico, qua è la mia soffa. Stefano deve agganciare questa e tirarci fuori da qua. Passare la bagaglia. Ok, lasco, io ho.